benvenuti benvenuti amici dei fuoricampo per questo nuovo video di commento al 32esima giunta di serie b ci siamo ci ritroviamo quindi una settimana dopo con una situazione inaspettatamente simile nel senso che per una volta da serie b dove che un campionato insomma che è abituato a ribaltamenti ha sostanzialmente confermato la classifica delle settimane della settimana precedente nel successo tanto state ben 3 e ben 30 a 0 soltanto 22 gol segnati e addirittura cinque pareggi quindi insomma diciamo che la classifica non si è non è cambiata di molto ma comunque sono successe delle cose significative le più importanti riguardano sicuramente le frenate di palma e venezia che sono due somma metà del contingente delle squadre in lotto per la produzione diretta a frema ha rallentato e diciamo che ai sei fini della classifica il passo fatto più pesante potrebbe essere quello del venezia che ha perso due punti da come cremonese e fa più sensazione la fanno più sensazioni le difficoltà del palma difficoltà che non sono più ovviamente non vanno non deve essere più sottovalutate perché è evidente che la sua di pecchi è stata versando il momento più difficile della stagione dal punto di vista della condizione fisica anche a bolzano si è visto una squadra che ha creato qualche occasione all'inizio che ha poi per il resto tenuto testo comunque un avversario compatto che che ha pensato a portare a casa il punto sfiorando neanche ferranno anche la vittoria negli ultimi secondi ma insomma evidente che parma che già non era probabilmente la squadra più forte del del campionato dal puntista dei singoli ora che la condizione fisica è in evidente calo ora che insomma la squadra non riesce più a portare quella quel pressing a essere così corta e compatta come sempre è stata con pecchia che l'individualità non assistono più non trasformano più su ma il gioco in reti e si vede tutte le difficoltà di un gruppo che non ha per scelta non è stato ritoccato a gennaio che non ha molte variazioni sul tema dal punto di vista tattico del del gioco e che non ha neanche un bomber a cui aggrapparsi magari nelle giate di minor grazie di minor ispirazione dal punto di vista del gioco tutto questo che cosa comporta che il vantaggio si sta vedendo il palma sta calando settimana dopo settimana è passato in tre partite da nove a sette punti è ancora consistente visto che le tre inseguitrici non hanno mai vinto tutte insieme nella stessa giornata ma considerando anche il calendario non buonissimo che attende la squadra di di pecchia è ovviamente presto per parlare di palma risucchiato nella lotta per la pronunzione diretta di sette punti di vantaggio fanno pensare ancora che la squadra i crociati possano gestire ancora questo vantaggio ma insomma è bene non non sottovalutare più questi campanelli dall'area ma anche perché è come che il monese e hanno hanno ottenuto un altro un altro successo e insomma diciamo che dopo era di ratti soprattutto risposte dal cremonese dopo i due scivoloni contro il sutiro le feralpi risposto che c'è stata in parte diciamo che a partita contro il bari risultato è meritato un campo comunque non semplice e hanno hanno pagato le scelte anche sorprendenti di di stop che ha lasciato in panchina nell'inizio coda e non solo e ha trovato sono buoni risposte diciamo che anche il commo non ha giocato non ha trovato la sua giocata migliore a catanzaro ma a questo caso differenza di quanto detto per il palma hanno deciso praticamente i singoli hanno deciso delle delle giocate quasi individuali anche se comunque non va sottovalutata la svolta tattica decida da roberts e da fabergas che sono passati a 4 4 2 da un paio di settimane e con buoni risultati in assenza di verdi la doppia punta con cutrone gabriellone gabriellone in mezzo con da cugna costa e frezza una foto di 4 24 sta sta pagando è che è evidente che la qualità in serie b paga sempre e quindi come il commo ne ha da vendere detto questo difficile fare previsioni a come la settimana cosa è impossibile fare per bilanciarsi in previsioni pronostici almeno fino alla penultima giornata quando ci sarà quello snoda che tutti aggiornata non ci sarà quello snodo con lo sconto diretto tra venezia e cremonese e con la fonte e con il commo che andrà a genova in casa della sampdoria forse lì si possa decidere molto il venezia non è ancora tagliato fuori anche se ha un calendario non agevole dovendo tra l'altro affrontare anche il fondo diretto con la cremonese ma comunque dovendo affrontare squadre in lotta per per la salvezza anche insomma è comunque il paese di ascoli ha confermato come insomma la squadra di di vanoli stia sostanzialmente già quasi facendo un miracolo a restare aggrappate formazioni come come cremonese che hanno dispongono solamente di organici qualitativamente superiori e anche più lunghi e in fatto di alternative specialmente in attacco quindi è difficile fare previsioni anche perché il campionato è spaccato in quattro tronconi e da qui al prossimo le prossime due tre settimane le situazioni non dovrebbe cambiare abbiamo detto le prime quattro in lotta per la promozione diretta altre quattro squadre che sembrano comporre il gruppo difficilmente modificabile delle formazioni che affrontano i preliminari playoff il brescia sta continuando nella risultati positivi la vittoria contro il pisa è stata piuttosto netta anche se favorita dalle solite ingenuità della squadra di aquilani ma appunto diciamo che lo stesso pisa il cittadena nonostante la ritorno alla vittoria reggio la reggiana il sutilo il modena che comunque a teni meritava sicuramente di vincere non hanno non sembrano avere la possibilità per scalzare sampdoria e brescia dalle ultime due posizioni playoff quindi il prodotto con le prime quattro le seconde quattro un gruppetto di squadra appunto cittadella pisa reggiana sutilo le modena che sembrano avviarsi ad una finale di campionato senza troppi patemi con poche possibilità di agganciare playoff e con una salvezza quasi in tasca e poi c'è il gruppo delle sette squadre che dovevano lottare fino alla fine per evitare la recessione probabilmente sei visto che il legge quasi spacciato ma dalla ferrari per cosenza che sono praticamente sei squadre raccolte in quattro punti la situazione poteva essere molto peggiore per i calabresi in caso di sconfitta piacenza contro la ferrari invece una doppia rimonta con sito aviale di trovare il primo punto sulla panchina dei lupi alla sua seconda avventura sulla panchina del cosenza e ha salvato anche in un certo senso molto concorrente perché con due punti in più la ferrari avrebbe scavaccato l'asco avrebbe agganciato la ternana e avrebbe veramente inguaiato tantissimo anche il bari che comunque è entrato ufficialmente in zona play out anche qui difficile sbilanciarsi lo spezia bus sprecato una grandissima opportunità contro il lecco una vittoria avrebbe non tirato fuori sicuramente gli aquilotti ma messi in una posizione molto migliore invece lo spezia che tra l'altro sarà ospite del parma nella prossima giornata dovrà ancora sudare per tirarsi fuori dalla zona della zona retrocessione una volata salvezza in cui potrebbero avere una notevole incidenza anche gli variabili infortuni perché la ternana e lascoli hanno perso sostanzialmente gli uomini migliori lascoli già da qualche settimana pedro mendes che ha finito la sua stagione e si è visto anche contro il venezia anche nei periodi precedenti quanto l'attacco senza il portoghese attacco della scuola senza il portoghese soffra con rodriguez con l'uffizio insomma con giocatori strenghi giocatori insomma non certo abituati a segnare a raffica carriera sta provando a tenere agganciata la squadra ma insomma un po le voci societarie un po insomma è appunto questa grave defezione di me ne si rendono mettono in lascia veramente una posizione molto problematica come la ternana perché il grammi infortunio subito dagli annarilli che potrebbe avere appunto già concluso la sua stagione e esporrà brega a affrontare la parte finale di stagione praticamente con portieri semi esordienti comunque non in grado di garantire la stessa efficacia di rendimento degli annarilli e quindi è chiaro che questi infortuni possono determinare molto perché ovviamente non tutti hanno la fortuna del brescia che fatta meno di borrelli dovendo essendo costretto a fare meno di borrelli per il resto della stagione può contare su moncini subito efficaci contro il contro il pisa chiaro che in condizioni di situazioni classifica molto diverse tenane ascoli rischiano di pagare veramente caramente questo queste gravi defezioni al a favore di chi ma sicuramente esempio di una ferra alpi che è molto viva col covenza abbiamo detto ha sprecato una grande opportunità ma comunque nel giorno di ritorno zaffaroni e sta tenendo una media da salvezza e quindi assolutamente la ferra alpi in piena loro in piena corsa per la salvezza diretta o play out il bari è in crisi nera sicuramente col col cramese si è visto qualcosa di più ma al prossimo turno già ci sarà la trasferta di como quindi sono possibili altre altre ribaltone classifiche e la sezione dei pugliesi rischia di peggiorare e ulteriormente prossimo turno appunto quello del 13 aprile spalmato ovviamente sempre tra sabato e domenica abbiamo detto di palma spezia che sarà una partita importantissima per entrambe le squadre perché chiaro che un terzo turno di fila per il parma senza vittoria potrebbe veramente sentire il famoso braccio nella squadra di pecchia che poi sarà attesa da trasferte insidiose bari palermo dal partito con la cremonese alla penultima dalla partita di reggio emilia dove insomma la squadra di pecchia il parma spera di avere già risolta pratica promozione ma se così non fosse sarebbe veramente una trasferta difficilissima solo la gara con l'eco sembra priva di insidie per il palma comunque per ma spezia sarà già uno snodo importante così come lo sarà appunto come bari che monese terrana diciamo che il prossimo turno è importante specialmente per il venezia ne avrà abbondantemente parlato anche davide marchio nei suoi video di approfondimento venezia la partita più tosta del prossimo turno con due brescia è chiaro che un venezia che non dovesse vincere con invece le vittorie come che il monete potrebbe veramente complicare la corsa della squadra di vanoli verso la promozione diretta quindi si capirà qualcosa di più del prossimo turno ovviamente non tutto perché le distanze sono minime e le squadre tra play out e salvezza e play off insomma molte squadre hanno ancora obiettivi da da centrare e quindi tutto è particolarmente difficile e imprevedibile chiudiamo il nostro punto con un bentornato telegrafico al ct nel mantova la settimana scorsa il cesena aveva ottenuto la promozione serie b un ritorno inteso sei anni 14 invece sono stati gli anni di assenza del mantova della serie b e diciamo che se per il cesena si è trattato una promozione annunciata una squadra nettamente superiore alla alla concorrenza nel girone b il mantova compiuto veramente un capolavoro un anno fa di questi tempi quasi i vigiani stavano retrocedendo in serie di erano retrocessi serie di sarebbero retrocessi dopo il play out contro albino leff poi il pescaggio e la costruzione di un giocattolo perfetto i complimenti quindi vanno a presidente piccoli al ds botturi ea davide postanzini che ha costruito una squadra moderna con un calcio positivo la famosa costruzione al basso che tanto divide ma che a mantova ha fatto veramente divertire tantissimi tifosi mantova mosse in b contagiante d'anticipo grazie al pareggio del padova due squadre che insomma proveranno essere protagonisti anche sulle scie del proprio passato glorioso nella prossima serie b anche se per entrambe c'è la questione dell'allenatore da da definire il cesena potrebbe non proseguire con toscano nonostante la rinnova automatico in caso di appunto scattato con la promozione il mantova sembra essere destinato a fare a meno di postanzini che è stato viene accostato al sassuolo sulla cui banchina l'ex secondo di roberto del verbi potrebbe sedersi in caso di retrocessione di nero verdi in serie b ovviamente ci sarà tempo e modo per parlarne restate con i fuoricampo con i nostri video appuntamento alla prossima settimana per un'analisi della trentatesina giornata di serie b